Puntata di Polifemo di venerdì 27 novembre ore 21 e 30, Viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre, è in replica domenica 29 novembre alle ore 15. Una puntata particolarmente ricca, affronteremo tematiche locali e tematiche nazionali, parleremo di occupazione, di ambiente, di sviluppo del territorio ma anche di immigrazione alla luce dei tragici fatti di Parigi e non solo. Parleremo di tutta la vexata questio relativa al riconoscimento dei diritti civili, ci sarà anche un collegamento telefonico con il senatore Carlo Giovanardi. Una puntata ricchissima, di alto spessore e non potevano mancare ospiti davvero di rilievo. Sono veramente onorato e fiero di averli in trasmissione. A partire dal professor Giovanni Battafarano, segretario nazionale dell'Associazione Lavoro e Welfare, il professor Angelo Fiore, coordinatore provinciale di Taranto di Popolari e Liberali, e Dulcis in fundo, Maurizio Baccaro, segretario provinciale di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà. E allora, non resta che mettervi comodi in poltrona, azionare il telecomando Canale 93 del Digitale Terrestre. Questa è Polifemo, l'informazione libera della città. Buona visione.